Sono stati ricevuti a Palazzo di Città dal sindaco di Gela Domenico Messinese gli atleti gelesi della squadra Starlight della Gymnastics Club preseduta da Walter Micichè dopo aver conquistato il titolo di campioni nazionali alla recente competizione di cheerleading che si è svolta a Novara. Il gruppo di giovani atleti è guidato dall'istruttrice Simona Scerra. Questi giovani atleti a Novara hanno portato arte il nome di Gela. Si sono classificate prima molte discipline e hanno fatto vedere che con grande sacrificio si riescono ad ottenere grandi risultati anche con i pochi mezzi che per adesso sono a disposizione. È veramente una gioia avere queste grandi risorse per la città a disposizione del nostro comune che portano avanti il nome della città e di tutto il movimento sportivo gelese. È bello vedere questi ragazzi che hanno un'età anche molto verde che sono davvero così consapevoli dei loro mezzi e dei loro risultati e oggi ci hanno portato allegria in questa riunione di giunta. Finali nazionali a Novara, campionati assoluti, ottimi risultati perché abbiamo ottenuto una doppietta, due titoli italiani in un doppio e in una categoria singola. Siamo strafelici perché ovviamente questa è la soddisfazione massima per un tecnico in questo caso di Simona Scerra che ha condotto queste atlete a questi alti risultati. La soddisfazione è sicuramente anche degli atleti e dei genitori perché si sono visti sul podio il gradino più alto italiano, i loro figli e questo ci dà orgoglio, soddisfazione non soltanto alle singole persone ma chiaramente a noi come città e come associazioni. Ci riteniamo soddisfatti perché abbiamo avuto conferma ancora una volta che lavorando duramente in palestra alla fine i risultati arrivano. Arrivano anche le gratificazioni per questi ragazzi che spesso e volentieri arrivano in palestra un po' disarmati dal fatto che magari non avendo fatto sport hanno bisogno di lavorare tanto. Lavorando tanto alla fine sono stati ricompensati e questo campionato italiano ha riconfermato noi sui podi più alti rispetto a tante altre regioni che invece abbiamo lasciato alle spalle. Mi sono divertita molto anche se mi sono stancata un mare allenandomi però alla fine ce l'abbiamo fatta. Il momento più emozionante è quando mi hanno classificato. Ho gareggiato nella categoria cheer dance della Sula Junior insieme alla mia compagna Giulia Mariena Sonte e posso parlare della gara dicendo che è stata davvero stupenda, mi sono divertita tantissimo. Sono state davvero delle grandi soddisfazioni per me perché dopo un duro allenamento poter andare ad una gara nazionale per me è stata davvero una grande soddisfazione.